Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il Teramo per la prima volta nella storia. Espugna il Massimino, batte il Catania per 1-0 con una grande prestazione. Paci rilancia in attacco bombaggio a supporto di Pinzauti e Piacentini in difesa per Trasciani. Il diavolo ha un bel approccio con la gara. Al quinto ci prova Pinzauti, il diagonale Mancino da posizione ravvicinata blocca il portiere. Al quindicesimo ancora pericolosissimo il Teramo con Santoro. Il destro viene ribattuto davanti alla porta da un difensore. Al ventesimo si fa vedere la squadra di Raffaele nell'unica mezza occasione del primo tempo con Dall'Oglio. Il tiro è centrale. Gli ospiti continuano a spingere e sfiorano il gol. Al ventottesimo con Diachite, il destro costringe Confente a deviare la sfera in corner. E il preludio al vantaggio meritato che arriva al ventinovesimo. Bombaggi serve la corrente Vitturini che con un gran tiro bacia e due pali e oltrepassa la linea di porta con il tocco finale del portiere. Il Teramo fa festa. Il Catania accusa il colpo e prova a reagire. Con Albertini, il destro, al volo respinto da Diachite. Nella ripresa, Raffaele prova ad aumentare il potenziale offensivo nel tentativo di recuperare, inserendo Reginalo al posto di Rosaia. Ma sono ancora gli ospiti pericolosi. Al cinquantunesimo con Pinzauti, che ha la palla tra i piedi in area, ma calcia debolmente, i padroni di casa provano a scuotersi e danno il primo brivido alla difesa ospite. Al cinquantacinquesimo con Pinto, che si coordina la sfera di poco alta. Il Teramo controlla il risultato con personalità. Negli ultimi dieci minuti, i locali provano l'assalto finale. All'ottantaduesimo, Lewandowski esce a valanga sul russotto. Nel momento migliore degli etnei, è il Teramo a fuggire in contropiede e si mangia il raddoppio con Mungo, che da posizione favorevole calcia centrale arriva il triplice fischio. Una vittoria molto importante in ottica playoff, perché uno scontro diretto, ci avviciniamo al Catania e rimaniamo attaccati alle posizioni più alte di classifica. Quindi sono punti che ci danno veramente tanto morale e tanta fiducia. Credo in questa squadra, ci credo, ci sono sempre creduto, anche nei momenti un po' meno belli, ma non hanno fatto niente, in campo ci sono andati loro. Sono molto, molto contento, perché secondo me si meritavano questa soddisfazione, anche se davanti a noi abbiamo un cammino ancora molto difficile. Mercoledì, di nuovo in campo, Albonolis contro la capolista Ternana alle 17.30.